Ragazzi, è incredibile, abbiamo raggiunto il traguardo dei 60.000 codice creatore Stepney. Grazie veramente di cuore a tutti quanti voi e a ogni singola persona che mi ha supportato con il mio codice creatore. Ovviamente era un obiettivo personale, ma lo abbiamo portato a termine insieme, perché senza di voi non sarebbe stato fattibile. Quest'oggi, pertanto, cercheremo di rendere gloria a questo obiettivo con una vittoria reale in arena. Sarà difficile, forse è meglio non gasarsi troppo. Spolliciate, commentate e iscrivetevi, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Bene ragazzi, questo è Stepney e bentornati in questo nuovo video. Il soldato, maglietta militare, siamo pronti. L'arena campione è sempre più lontana, ma chi se ne frega. Dobbiamo vincere, dobbiamo concentrarci. Ci siamo, dove iniziamo l'avventura di oggi però? Perché non provare subito a prendere il rampino? Quanto renderebbe il gioco? Tanto, tanto. Spero di non rimetterci le penne. Diciamo che giocare con il rampino o senza rampino fa una bella differenza. E io che pensavo di essere praticamente solo, mi sbagliavo alla grande. Mia è mia, oh è mia, è mia, è mia, è mia. Bellissima. L'ha preso lui. Ma porra! Cioè, io sono davanti e lui riesce a rubarmi l'arma. Va bene, il primo atterraggio troll ci può stare. Troll un corno. Figa. Fate finta di non aver visto niente. Inizia ora la prima partita. Ce ne andiamo a Misty Meadows. Atterraggio tranquillo mi sembra. Non sento altri deltaplani. Boh, speriamo. Niente da notificare per ora. Siamo solamente noi. Ho trovato delle pozioni ma sto aspettando di trovare quelle piccoline. Così portiamo con noi anche quelle da 50. Et voilà. Magari abbiamo fortuna e troviamo uno slurfish. Eccolo. Finiamo di farmare e ce ne andiamo a prendere il barretto. Raga, addirittura possiamo azzardare un potenziamento e fare il pump epico. Ne varrà la pena, fidatevi. Eccomi. No. Forse era aperto perché l'hanno aperto loro. Sì, 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 sì. Va tutto bene, va tutto bene. Dai, forza. Eccolo qua il barrettozzo. Tanto i pesci li avrei abbandonati. Scudini. Scudone. Questo lo facciamo diventare una R normale. Che è come piace a me. Easy. C'è il moto schifo. Ce ne andiamo con questo. Wey. Qua stanno combattendo. Dobbiamo andare in zona sicura, raga. Eh, vabbè. Tieniti pure i tuoi segreti. Deum. Siamo nei guai, ovviamente. E sta arrivando la tempesta. Che bello. Almeno in zona sicura ci dobbiamo arrivare. Ok. Abbiamo tempo di ragionare. Di ricaricare le armi. Di uccidere il tizio che c'era fuori. C'era il tizio fuori, vero? Qua dov'è? Maledizione. Dobbiamo trovare una via di fuga, raga. Siamo rovinati. Cioè, io non ho più cure adesso. Non ho più neanche materiali. La zona sicura è lontanissima. E te pareva. Via, via. La barca è l'unico modo, eh. The only one. E siamo fortunati. Nessuno ci rompe le scatole. Eccolo. Tutti assetati di sangue. Ma lasciatemi in pace. Ma fatevi... Raga, da... Da ogni dove? This is the end. Ecco. Ho fatto a mancarlo. Come ho fatto a mancarlo col pompa? Mannaggia a me! Dai! Siamo completamente disconnessi. Non potevo sbagliare quel fight. Ma ci sono riuscito comunque. Incredibile. Perché sto atterrando qua? Ah sì, ok. Nel mio inconscio mi sa che ho visto un lama. Usciamo subito, eh. Chi si è visto si è visto. Vai, sparati questa pozione. Non ho un fucile a pompa. Ma ho 100 scudo e sono molto agguerrito. Dobbiamo andare. Anche perché sicuramente l'altro avrà il pompa. Devo sbrigarmi prima che trovi tutte le cure. E vabbè. No, vabbè. Sei ancora lì? Ma... Stiamo scherzando? Io sono stato imploso. Imploso completamente. Voglio vedere. Questo non sa neanche buildare. Cioè, da chi siamo morti, raga. Come ha fatto ad uccidermi? Raga, è da una settimana che Fortnite è diventato qualcosa di assurdo. Di impossibile. Inizio a nutrire seri dubbi che riusciremo a regalare una vittoria reale ai 60.000 codici creatori e steppi. Le armi degli altri sparano dritto. La mia spara sempre storto. Ce ne andiamo all'agenzia? Prima me ne vado qua. Sperando che non ci vada già qualcun altro. Uscire d'assalto. Le pozioni ce le abbiamo. Ho visto anche un tac bianco. Ora prendiamo tutto. Prendiamo un po' di materiali. E spugniamo l'agenzia. Prendiamo la drum gun e vinciamo sta partita. Forza! Concentrazione! Roba buonissima all'interno di queste casse. Abbiamo la R blu. Abbiamo il pompa verde. Abbiamo 100 scudo. Abbiamo il rampino. Cioè l'arpione. Magari avessimo il rampino. C'è qualcuno sopra. Lo vedo da qua. Quasi quasi ne approfitto e pesco al volo. Sicuramente combattere con i pesci ci aiuta. Andiamo! Qua da là che roba! Abbiamo un arsenale da guerra! Siamo pronti! Dov'è? Ciao bello! Qua dietro! Preso! Un altro a casa! Dai! Dai che siamo già a due kill! Buono! Molto buono! Hanno appena aperto il vault? Eccone uno là! L'ho visto! Eccolo! Sento sparare! È sotto! È sotto! Sento sparare anche le torrette! No way! No way! Oh my god! Ma come fa? Veloce! Sì! L'ho preso! E andiamo! Hanno aperto il vault! Sì! Posso scendere? Scendo eh! Sono sotto! Non c'è tempo da perdere! Abbiamo espugnato il vault! Due pozioni a 50 le prendo entrambe! Raga! È stata dura! Ma ce l'abbiamo fatta! Abbiamo superato l'agenzia! E adesso ce ne andiamo via! Ciao ciao! Ci siamo riusciti raga! Non vedo l'ora di scoprire cosa faranno questi aggeggi qua! Magari inventano... Boh! Una tuta subacquea per cui puoi andare sott'acqua! Chi lo sa! Siamo in zona sicura quindi direi di non cercarci rogne! Tanto saranno le rogne a trovare noi! Headshotina! Devo andare? Ma sì! Ma guarda che fortuna! Guardalo lì! Mi curo! Anche lui probabilmente! Non voglio morire da questo raga! No! Un colpettino gliel'abbiamo dato! Se lo merita! Craccato! E vabbè! Ciao! Sì! Quattro pesce è veramente molto buono! Adesso ricarichiamo tutto! E ce ne andiamo di qui! Via! Siamo sopravvissuti! Ciao belli! Ne ho uno davanti! Che sta andando qua dentro! Dovrei ucciderlo probabilmente! Per recuperare un po' di materiale! Un po' di cure! Non lo so! Se ne vale veramente la pena! Non risica! Non rosica! Don't forget! Lui pensa che io non l'abbia visto! Laserato completamente! Sto arrivando per te! Oddio! Questo è matto raga! Questo è matto! A casa! Perché prendo quest'arma? Perché è illegale raga! Vi giuro! Pensavo ci saremmo morti! Cioè proprio sinceramente detto fra di noi! Non credevo di sopravvivere! Magari ci prendiamo una kill rubata! Ci curiamo! Andiamo a 100 di scudo! Magari eh! Dico magari! Magari no eh! Distruggiamo tutto! Sì! Un bombardamento by Stephanie! Stepney! Boom! Guarda là giù! Boom! Boom! È un assedio raga! Giù! Tutto distrutto! Li abbiamo messi in diffic... Oh! Ho craccato qualcuno! Hai sentito il rumore? Pensate se avessi preso la kill sarebbe stato leggendario! Allora mi tocca andare a vedere! Cioè mi spetta il diritto provare ad uccidere chi è laggiù! Stiamo scherzando? Anche se è fuori safe! Dovrei farmi i cavoli miei vero? Sì! Hai sprecato un launchpad! Ora boom! Colpo di cecchino! Headshot! E ciao Stepney! Tanti saluti a casa! A casa! That's good! Shit happens! Anche questo è andato! Non c'è? Incredibile! What? Raga! Il Matrix! L'abbiamo trovato a lui! Era là dentro! Mi stava per far fuori! Eh eh! C'è un airdrop! Sì! Che dite? Ma è la fine a rischiare? Chi non risica non lo sia! A parte che qua ci sono materiali! Buono! Ok! Airdrop! Recuperato! Non c'è la pozione a 50! Bene! Bene! Bene così! Via! Ce ne andiamo subito! Oh! Zitti zitti! 10 persone in vita! E io stavo per morire dal tizio nel cespuglio! Incredibile! L'importante è che non sia successa quella cosa! Altrimenti sarei impazzito! Letteralmente parlando! Stiamo scherzando! L'hanno scicchinato! L'hanno scicchinato raga! Ok! Uh! Prendo questo! Prendo questo! Mi sento più confident! Siamo vivi! Abbiamo ucciso anche questo! Siamo in zona sicura! Preso! My god! Squad! Sta andando meravigliosamente! Devo fare così! Fidatevi! Ci abbiamo i flopper in più a disposizione! C'è anche gli scudini! Veloce! Aspetta! Sì lo so! Potrebbe essere una follia probabilmente! Un po' di scorte per l'inverno raga! Se non vi dispiace io me le faccio! Scudini! Flopper! E tutto in zona sicura! Laggiù combattono durissimo! Apri sto coso! Apri! Ma guarda te che lavori! Buono buono! Siamo in quattro eh! Craccato quello! Eliminato quello! Buono così! Sono caccato eh! Ok è rimasto solo lui! Headshot bellissima! No! Non riesco a... Non è vero! Mi prego no! No no no! 9 kill! Erano 10 bombe! Ragazzi! Sono senza parole! Sono agitatissimo! Meglio se smetto! Spolliciato! Ebbiamo arrivare a 70.000! Cosa dice creatore Steppini! Ditelo a tutti! Al nonno! Allo zio! Ai babbo! Ai fratelli! Tagatemi su Instagram! E vi saluto! Guarda sempre tutto! Puri! Il server ha richiesto che tu te ne andassi alla partita! Era finita! Grazie al cavolo! Tipo! Che è fullo! Ben chiama! Tipo! 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 Io va perd 할 liberiся! Tipo! Tipo! Grazie.